Dottore San Germano è stato eletto nel comitato direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati e un incarico nazionale per un magistrato pratese. Innanzitutto volevamo sapere quale sarà il suo impegno per Prato. Cercherò di portare all'attenzione dell'organo di rappresentanza sindacale dell'Associazione Nazionale Magistrati la penusa condizione in cui versa la giustizia a Prato, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista di attenzione alle specifiche problematiche del circondario. Da un punto di vista materiale su tre ascensori ne funziona uno solo con aggravi per l'utenza e anche per il personale estremamente disagevoli. Non abbiamo un metal detector all'entrata, abbiamo avuto due inquietanti episodi di allarme bomba, uno in particolare molto grave, senza che vi fossero controlli che potevano prevenire un fatto reale e foriero di conseguenze lesive. Non c'è personale amministrativo a sufficienza, in particolare presso il Tribunale. Ovviamente parlo come rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati, poi i capi degli uffici diranno le cose loro istituzionalmente di spettanza. Poi ci sono i temi invece a livello nazionale, in questo momento si parla molto di giustizia, si parla anche di nuove leggi fatte dal governo. Quale sarà la posizione che lei porterà in seno all'ANM? Quella coerente ai miei impegni, tra virgolette, elettorali. Io sono un magistrato che fa politica associativa e non un politico che fa il magistrato, e anzi sono contrarissimo ai magistrati in politica a qualsiasi livello, anche al mero livello istituzionale, quando continuano ad essere magistrati. Questa è una mia posizione personale, ferma e netta, di non collateralismo e di non sudditanza, certamente un'assenza totale di pregiudizialità, ma anche rigore nella valutazione di merito dei provvedimenti legislativi. Se devo giudicare da quello che il governo Renzi ha fatto finora, non posso che averne una percezione assolutamente negativa per buona parte dei provvedimenti. Parlo in particolare della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, che al di là del cancan mediatico, delle strumentalizzazioni e dell'enfasi ideologica, è una legge che rischia di incidere in maniera esiziale su profili costituzionalmente rilevanti ed epicentrici, come l'autonomia e l'indipendenza del singolo magistrato. Anche lo sberleffo delle ferie non mi è piaciuto per niente, non ci è piaciuto. Si è inteso far passare la riforma delle ferie come un modo per punire la casta di privilegiati, mentre quei 15 giorni in più tutti sanno e tutte le persone sanno, avvedute sanno, che servivano a scrivere sentenza e a esitare provvedimenti. Se devo poi giudicare i progetti di riforma al vaglio del governo, sono ancora più preoccupato. La riforma dei consigli giudiziari, la riforma processuale, con una verticalizzazione ulteriore degli uffici di procura, in capo al Procuratore Generale, dovrebbe addirittura autorizzare una proroga per l'esercizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, decorsi tre mesi dalla scadenza dei termini. Tutte ipotesi normative che ci lasciano non perplessi, ma esterefatti. Io non vorrei che si fosse passato da un conflitto di natura ordinamentale sotto i governi berlusconi, dove si proponeva praticamente un modello di giustizia incompatibile a quello voluto dal costituente, da interventi chirurgici più sottili, nascosti dietro la nebbia delle parole che declamano il rispetto formale per la magistratura, ma di fatto si incide su momenti nevralgici dell'assetto processuale e istituzionale, così comprimendo in maniera molto pericolosa gli spazi di autonomia e indipendenza dei singoli magistrati, che sono garanzia del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.